mister domani la squadra è chiamata a un riscatto ma sicuramente dopo dopo la sconfitta di domenica giustamente abbiamo analizzato un po dove dove abbiamo sbagliato sono quelle partite dove gli episodi fanno la differenza quindi però bisogna ricominciare perché aver fatto tre risultati io mettere la firma riperdere la 14esima e capisco che non sarà facile però la squadra ha capito hanno lavorato bene ci siamo preparati abbastanza bene vogliamo subito riscattarci più che altro anche la prestazione di domenica domenica scorsa la battuta d'arresto delle squadre che seguono l'atletico di palermo vi ha un po dato una mano ma questo vi induce anche a ritenere che effettivamente può essere l'anno buono per rimanere sempre nella zona alta cioè che lo squadra la sciacca ha gli strumenti per poterlo fare ma noi l'abbiamo l'abbiamo detto prima che vogliamo fare un campionato importante non ci nascondiamo quindi vogliamo stare più in alto possibile e arrivare più in alto possibile quindi le prestazioni fino adesso sono sempre state buone sono sempre state ottime purtroppo siamo abbiamo qualche problema con gli infortuni quindi speriamo di recuperare subito tutti e sono convinto che la squadra farà un'altra grande prestazione anche domani per quanto riguarda le cose di campo manca Concialdi ci dica se questa assenza diciamo si protrarrà e comunque a suo parere è necessario anche qualche rinforzo o basta anche soltanto il rientro degli infortunati per rimettere cose a posto ma guarda noi dispiace il fatto che Concialdi è andato via perché abbiamo perso oltre che un ultimo ragazzo un bravissimo calciatore sicuramente abbiamo le possibilità di risolvere il problema del play anche all'interno della nostra della nostra squadra ma sicuramente a dicembre credo che la società farà qualcosa anche perché lì in avanti purtroppo da molto tempo giochiamo sempre una prima senza una prima punta quindi il problema l'abbiamo perché in base a quello che creiamo sicuramente realizziamo poco. Per quanto riguarda le squadre di vertice è comunque l'atletico di Palermo la squadra da battere o a suo parere il Gela potrebbe ancora insidiarlo? Ma guarda è una domanda che che mi fate dall'inizio della stagione sempre la stessa la carta è una cosa il campo un'altra sulla carta è normale che l'atletico di Palermo insieme al Gela hanno fatto hanno degli squadroni hanno hanno fatto la squadra a vincere e poi ci stanno altre 4-5 squadre comprese noi che se la giocano quindi loro devono dimostrare sicuramente sia Gela che Atletico di essere superiore a tutte le altre poi è il campo è il campo che parla